Il mio ministero da massima centralità alla Calabria. Ovviamente poi adesso non vedete più le slide, ma si è parlato della strada statale 106. Ci sono dei progetti, tre progetti come prevede la legge. A febbraio tornerò insieme alla dirigenza dei compartimenti regionali di ANAS Calabria e inizieremo a sciogliere questi nodi. È inaccettabile che ci sia assenza di collegamento, o meglio addirittura peggio, collegamenti inesistenti come è oggi. Scioglieremo il nodo di quali dei tre progetti verrà utilizzato e quindi nel progetto preliminare passeremo al progetto esecutivo. Penso che di quel miliardo e tre rotti già stanziati per il terzo megalotto della 106 Ionica si possono anche risparmiare denari e tempi per ottenere un buon risultato. Ovviamente questo è l'obiettivo e cercheremo di farlo velocemente e in legalità e in trasparenza perché mi rendo conto di quanto sia critica la situazione in Calabria. E solo ridando lavoro, ridando efficienza a questa regione, marginalizziamo la criminalità organizzata. E quanto riguarda la ferrovia Ionica? Ma guardi, l'altro dosi è quello delle ferrovie. Non è possibile andare avanti in questa maniera. State vedendo come RFI sta intervenendo per l'elettrificazione. È un minimo passaggio per dare una certa normalità e soprattutto per bypassare quei 77 passaggi a livello che rendono, diciamo, dal Medioevo una ferrovia come quella in questione. Quindi un passo per volta. Quello che penso che sia importante che oggi passi di concretezza è massima attenzione del Governo. Per la Calabria, legalità e su utilizzo dei soldi in legalità. I soldi pubblici ci sono, sono stati troppo spesso bloccati. Oggi questo non è più accettabile. Io tornerò a febbraio per iniziare a risolvere il nodo della strada statale 106 Ionica e anche magari per altri nodi perché penso che un po' di soluzioni ci sono. L'attenzione massima e penso che con un'attenzione massima seria e concreta di utilizzare bene i soldi qualche risultato nei prossimi anni lo potremo ottenere.